L'8 dicembre alvia il cashback, il rimborso di una parte delle spese effettuate con Bancomat e carta di credito. Francesco Di Mario. È conto alla rovescia per l'avvio dell'operazione cashback. Il rimborso del 10% dell'importo speso con Bancomat e carte di credito scatterà l'8 dicembre. Sono esclusi gli acquisti online. Per partecipare servono le credenziali speedo, la carta di identità elettronica e l'app IO, sulla quale abilitare le carte utilizzate. Questo mese basteranno 10 acquisti per avere fino a 150 euro di rimborso, massimo che scatta con una spesa di 1.500 euro o più. Da gennaio le operazioni richieste sono almeno 50 per vedersi accreditati sul conto fino a 150 euro ogni sei mesi. A questo si aggiungerà un extra cashback di 1.500 euro a semestre per i primi 100.000 cittadini con più transazioni a prescindere dall'importo speso. Pronti al via anche gli spot video del cashback, iniziativa che fa parte di Italia Cashless, un piano del governo volta ad incentivare l'uso di carte elettroniche ed app di pagamento. L'invito è ad usarle in negozi, bar e ristoranti, ma anche per pagare meccanici, avvocati ed artigiani. In alternativa all'app IO, il cashback si potrà ottenere con le app delle principali società paytech. Dal 2021 saranno validi ai fini del cashback anche i pagamenti fatti col telefonino. I contagi in Italia, vediamo.